Amiche e amici di Antena 2 TV, buonasera e vi ritrovate a una nuova puntata di Antena 2 Sport e come ogni martedì andiamo a raccontarvi quelle che sono le realtà sportive del nostro territorio e non solo, parleremo questa sera anche di eventi e sì perché iniziamo subito con una gara importante di atletica ma soprattutto di corsa campestre organizzata dalla sinergia di tre società diverse. Sto parlando della Bergamo Star, della GS Marinelli Comenduno e chiaramente dell'Atletica Albino. I rappresentanti sono qui con noi ospiti in studio, buonasera e vi ritrovati. Buonasera, buonasera. Vado subito a presentarveli perché per la Bergamo Star c'è il presidente Dante Acervis che è un piacere avere qui con noi. A fianco troviamo Daniele Ravasio e poi c'è Simone Carrara. Buonasera ancora a voi. Parto da lei Dante perché insomma ho parlato di sinergia tra queste tre realtà per organizzare questa importante corsa campestre che è giunta alla quarta edizione e insomma raccoglie davvero il meglio dell'atletica bergamasca e non solo in una domenica. Domenica 4 febbraio in località Perola ad Albino. Sì, proprio in località Perola ad Albino. È una piccola frazione di Albino dove fortunatamente abbiamo ancora un bellissimo prato che è rimasto perché purtroppo i prati man mano vengono occupati da altre costruzioni. Lì essendo una donazione non si può toccare per cui il prato è bellissimo, c'è il nostro contadino che tutti gli anni ce lo tiene pulito e in ordine e possiamo fare veramente una bella campestre coadiuvata dagli aiuti delle nostre tre società che collaboriamo tra di noi. Per cui siamo molto molto contenti e fieri di poter organizzare la prima campestre del 2024 a Bergamo. Eh sì, la prima campestre, il primo appuntamento ufficiale per l'atletica bergamasca ad Albino domenica 4 febbraio come detto e parlavamo di questa location davvero speciale. Sono sette anni ma sembra davvero una vita perché ormai è un appuntamento classico davvero la prima domenica di febbraio ma soprattutto insomma come diceva questa conformazione naturale anche del terreno rende questa campestre davvero particolare. Ci sono i saliscenti, ci sono dei piccoli dosti insomma e soprattutto che qui lo vediamo anche delle immagini proprio dello scorso anno è partecipata da un sacco di ragazzi e di bambini perché insomma le iscrizioni sono aperte dalla prima elementare fino agli allievi. Sì, dalla prima elementare fino agli allievi. Sono tanti i ragazzi, sono i numeri davvero importanti. Sì, dovrebbero essere un 200 o 300 dipende dalle annate più o meno. Quest'anno la gara è valida anche per l'assegnazione del titolo provinciale per la categoria cadetti-cadette e allievi-allieve. Per cui assegneremo anche i titoli provinciali. Quindi insomma un riconoscimento ancora più grande anche per tutti gli atleti che partecipano proprio a questa competizione. Io ho parlato di sinergia, poi parleremo anche dai rapporti davvero che ci sono tra queste società perché ci sono settori giovenili separati ma poi l'esplosione tra i grandi in un'unica società che è quella della Bergamo Star. Nel frattempo continuiamo a vedere le immagini dello scorso anno. In mezzo al centro c'è Daniele Ravasio che rappresenta proprio la GS Marinelli come in d'uno di Albino che lì davvero gioca in casa. E soprattutto Daniele so che è l'addetto alla disegnazione di quello che è il percorso. Sì diciamo che noi della Marinelli ci occupiamo un po' più della parte logistica, percorso e quindi ci siamo diciamo le tre società si sono divise un po' il compito di fare tutte le cose che possono essere utili per questa gara. E come detto quest'anno sarà solo per il settore giovanile, mentre negli anni scorsi abbiamo fatto anche la gara del settore assoluto e speriamo di avere parecchie società che ci partecipano e portino tanti ragazzi. Questa scelta soprattutto proprio per la partecipazione perché come detto forse perché è il primo appuntamento che apre un po' la stagione ci sono sempre tanti iscritti anche per noi siete gli ispettatori che magari sono a casa e non sanno cosa fare domenica 4 andate a vedere perché c'è davvero il meglio dell'atletica bergamasca giovanile. Esatto e poi le campestri sono sempre meno diciamo numerose sul territorio. Una volta quando eravamo ragazzini noi c'erano molte più campestri adesso sono gare che a noi piacciono molto purtroppo ce ne sono pochissime per mancanza come diceva Dante di prati o di posti giusti dove farle quindi ci teniamo ad organizzare ancora questo cross e a portarlo avanti perché è un'occasione dove i ragazzini possono correre su terreni sui prati e non sempre su strada o pista. Vorrei dire un discorso importante che il bello di questo prato è che è dove c'è l'arrivo e c'è il pubblico è leggermente in alto e poi il prato scende per cui si può vedere completamente tutto il percorso. Perché a volte si va in campestri dove si vede solo l'ultimo pezzo il pezzo della partenza invece in questo contesto il pubblico riesce a vedere tutta la gara effettivamente è molto molto bello. E qui guardate questo prato. Anche da qua vedendo le riprese in cima si vede giù tutto il percorso e qui vedete ovvero tutti i ragazzi che partecipano il percorso come dicevamo è suddiviso tra i 400 metri dei più piccoli fino ai 2400 metri degli allievi è anche abbastanza tosto bello lungo. Sì 2400 metri per una categoria allievi è una buona distanza considerando poi che si corre su prato che a seconda degli anni può essere come abbiamo visto qua c'è un po' di neve o c'è fango così quindi è un percorso che può essere anche duro. Questi 2400 metri a volte sembrano molto di più di quello che sono. Sembrano anche molto di più per la fatica che chiaramente si fa per portare a termine anche questa competizione. Prima di andare a sentire anche Simone Carrara presentiamo un attimo la Marinelli questo gruppo d'atletica con sede a Comenduno di Albino. Quanti siete? Come vi suddividete? Com'è la collaborazione anche con la Bergamo Star? Poi andremo nel dettaglio per parlare dei grandi perché sappiamo benissimo che la Bergamo Star raduna davvero tante società della nostra bergamasca e non solo. La Marinelli di Comenduno nasce nel 1953 come polisportiva. Noi dell'atletica siamo stati fondati nel 1986 quindi sono parecchi anni che c'è anche l'atletica Marinelli all'interno del gruppo Marinelli. Noi ci occupiamo del settore giovanile soprattutto che poi i nostri atleti diciamo arrivati nelle categorie allievi juniors così passano alla Bergamo Stars dove vanno a seguire un percorso assoluto quindi di gare diciamo da adulti. Con un livello chiaramente superiore. Dove vi allenate? Quella è la vostra sede? Ma diciamo che i ragazzini si allenano allo Stadio Kennedy assieme all'oratorio Albino e sì soprattutto diciamo che il punto di ritrovo è un po' quello poi ovviamente ci sono anche allenamenti che si fanno fuori su strada o su prati sempre nel territorio di Albino comunque gli allenamenti si svolgono lì. E quello è un po' il punto di riferimento. Dallo Stadio Kennedy si parte poi insomma come sappiamo bene l'atletica è fortunatamente uno sport da praticare all'aria aperta quindi da lì ci si muove e ci vanno a scoprire anche le bellezze volendo di Albino e non solo. Vado a fianco a conoscere Simone Carrara lui rappresenta l'atletica Albino un'altra realtà importante per quanto riguarda poi questa disciplina in Albino è importante che ci siano anche due realtà che collaborano nello stesso paese nello stesso comune. Buonasera gli allenamenti si sono appunto svolti in comune quando parliamo di Albino e di Marinelli appunto al campo Kennedy e poi confluiamo sulla Bergamo Stars ci occupiamo appunto del settore giovanile così come la Marinelli e quindi arriviamo fino alle categorie ragazzi e quindi sia Marinelli che Albino trovano completamente lo spazio con il cross di parola per tutte le loro categorie perché oltre appunto a poter correre fino alle categorie cadetti o allievi è anche aperta ai più piccoli appunto agli esordienti. A, B e C quindi anche la prima, la seconda e la terza elementare. Invece raccontami un po' del vostro ruolo all'interno di questo cross di parola voi di cosa vi occuperete abbiamo saputo che la Marinelli si occuperà di quello che è il percorso un po' la logistica e l'organizzazione di questa gara invece l'atletica Albino che cosa ha preso in carico? È una sinergia tra le tre società ci occupiamo tutte e tre dell'organizzazione Albino risulta appunto come la società organizzatrice insieme a Marinelli e a Bergamo Stars e svolgendosi appunto sul territorio di Albino è buona cosa svolgerla tutte e tre insieme. E' giusto, quando serve chiaramente. Invece io so che tu sei stato un atleta fino a qualche tempo fa o fai ancora l'atleta Simone? Pratico ancora con la Bergamo Stars appunto ho iniziato con l'atletica nell'ortore Albino essendo io di Albino finita le categorie ragazzi ho iniziato da cadetto con la Bergamo Stars. Adesso ti vediamo nella doppia, nella duplice veste quella di allenatore e di atleta? E adesso più come allenatore però sì ci si diverte ancora a correre. Insomma i tuoi ragazzi quanti anni hanno? Vanno appunto dai più piccoli esordienti fino ai ragazzi quindi dalla prima elementare fino alla seconda media quando poi passano a Bergamo Stars. Ti dividi insomma? Quindi ci si divide gli allenamenti, siamo in più allenatori, c'è Nadia principalmente che dirige gli allenamenti e noi a darle una mano e si svolgono tutti al campo Kennedy, si allenano due volte gli esordienti e due volte i ragazzi finché poi passati più grandi alla Bergamo Stars, gli allenamenti oltre a più impegnativi diventano anche più numerosi. E com'è essere passato dall'altra parte? E' bello, lo vedi da di là, è bello, è un'esperienza nuova e motivante. E quindi insomma ti vedremo anche nell'esperienza da allenatore in quella del cross di Perola. Io non ho chiesto invece a Daniele Ravasio quali sono i tuoi ragazzi, i ragazzi che segui, quali categorie gestisci oppure sei già più un responsabile tecnico di tutte le... Allora sì in effetti io non seguo gli allenamenti dei ragazzi perché per la Marinelli li seguono Nadia e Giovanni e io seguo più la parte eventi. Io ho iniziato a correre da ragazzino nella Marinelli e ho smesso diciamo qualche anno fa, adesso mi occupo più dell'organizzazione di eventi. L'anno scorso abbiamo organizzato il giro podistico di Comenduno, organizziamo un trail che parte sempre in Perola a luglio, facciamo questa campestra in febbraio, poi abbiamo la nostra gara sociale a Comenduno che si chiama la Due Miglia del Serio e collaboriamo anche con l'Admo Run per fare una camminata a scopo benefico. Quindi abbiamo parecchie... parecchia carne al fuoco durante l'anno e io do una mano sull'organizzazione di questi eventi. È bello perché sono davvero tanti eventi e insomma c'è davvero tanta gente appassionata proprio anche ad Albino, poi anche per la conformazione proprio territoriale, insomma questi sali e scendi, è anche un piacere correre ad Albino, anche lungo la pista ciclabile senza andare troppo lontano. Sì la pista ciclabile è molto bella, secondo me è una cosa molto positiva che hanno fatto... È utile. Ha diciamo radunato un po' tutti quelli che corrono nella valle, perché una volta si correva, ognuno correva nel suo paese e non ci si vedeva diciamo durante gli allenamenti. Invece adesso c'è questa sinergia davvero molto importante. Che quando poi sfocia tra grandi atleti e soprattutto quando passano le categorie dopo gli allievi si confluisce tutti nella Bergamo Stars diretta da Dante Acervis. Ha lei il compito poi davvero di portare e rendere grandi questi atleti? Allora non è che li rendiamo grandi, nel senso che gli diamo un'opportunità di allenarsi in un posto idoneo per quello che devono fare. Oggi con la fortuna che a Bergamo abbiamo oltre alla pista di atletica attaccato abbiamo l'impianto indoor, questo ci dà la possibilità d'inverno e anche d'estate quando piove o alla genere di potersi sempre allenare nel modo migliore, specialmente nelle specialità tecniche che sono la velocità, gli ostacoli, il salto in lungo, il salto triplo, i lanci, perché anche lì a Bergamo abbiamo la possibilità di lanciare. E questa possibilità è anche data dal fatto che gli atleti quando passano cadetti di Albino o della Marinelli o dell'Oratorio Albino, va bene, noi abbiamo dei pulmini e li portiamo a Bergamo ad allenarsi nel modo migliore. Questi pulmini sono guidati da dei volontari, abbiamo gli alpini, abbiamo un papà, abbiamo qualche allenatore, va bene, per cui abbiamo questa possibilità di portarli a Bergamo, si allenano e vengono a casa tranquilli e stanno anche in compagnia sul pulmino e questo è il modo per farli crescere. Quest'anno poi noi abbiamo avuto la grande opportunità e la fortuna di avere il nostro Roberto Rigali che è arrivato secondo al campionato del mondo di staffetta 4%, va bene, in Ungheria, a Budapest e questo chiaramente è il coronamento di quasi dieci anni di attività. E di tutto questo lavoro. Una persona che va in nazionale e porta a casa una medaglia d'argento, va bene, in un campionato del mondo. Scusate ma questo io ero su, veramente è stata una cosa di una soddisfazione immensa e è bello, è bello, è bello, è bello, è bello. L'atletica è questa. Il bello dell'atletica, continuo a dirlo sempre, che le regole le conosciamo tutti. Per giocare a calcio bisogna capire il fuorigioco e qui il passaggio, non il passaggio, il basket, il terzo tempo, tira su, tira giù, la palla a volo, anche lì c'è il pallone sì, il pallone no. L'atletica, pronti via, vengono, andiamo, tutti sanno già quello che devono fare. Poi dopo, se ti alleni bene, impari bene il gesto tecnico, ma questo è normale. Però l'atletica è una cosa immediata. Vengo a fare l'atletica, pronti, ci siamo. E questo è davvero un messaggio importante. È vero, una volta che si hanno davvero le scarpe ai piedi, si può fare atletica in qualsiasi posto, in qualsiasi ora, in qualsiasi momento di notte, di giorno, di mattina, davvero quando si vuole. E soprattutto poi, mi riferisco all'importante risultato ottenuto, quello è il giusto compenso, anche se di compenso è brutto parlare, di tanti sacrifici, di tanta organizzazione poi fatta durante l'anno. Tanta organizzazione e passione. Non parliamo di sacrifici, perché la passione supera ogni cosa. Le squadre alla Bergamo Stars sono collegate, sono la Marinelli, l'Atletica Albino, ma so che ce ne sono altre in Bergamo. Sì, collaboriamo anche con il Centro Sportivo Ranica e anche con, a Romano di Lombardia, la Capucinese e il Runners Romano Runners. Anche loro collaborano per far crescere e portare avanti tutti questi ragazzi. Un'ultima battuta, c'è un altro obiettivo che si è prefissato, magari per questo 2024, per la sua Bergamo Stars? Ma guardi, tu dici cosa pensi del futuro. Io penso che il futuro è di avere sempre gente da poter allenare e avere gente che vuole imparare l'Atletica e noi dobbiamo essere lì a dargli questa possibilità. Dopo poter vincere e arrivare secondo un campo del mondo è stata una cosa fuori da ogni logica. Lo sapevamo, ci credevamo e è arrivato. Per cui speriamo, ancora adesso abbiamo un ostacolista, Tony, molto bravo, che sta dando delle prestazioni eccezionali. Però ci sono sempre tanti giovani che vogliono. Noi dobbiamo dare la possibilità di fare dello sport, perché lo sport oggi è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi. Per cui non è un problema di vittorie, ma un problema di dare la possibilità. Poi, in questa grande possibilità, diamo la possibilità ai talenti di uscire. Di uscire e di emergere. E questa è la soddisfazione. E questa è davvero molto importante. Io vado velocemente da Daniele Ravazio per dare l'ultimo messaggio, l'invito. Lo faccio fare a te, insieme a Simone magari. L'invito a tutti i nostri telespettatori e gli appassionati di atletica di venire a vedervi ad Albino, in località Perola, domenica 4 febbraio, per questo cross di Perola giunto alla settima edizione. Sì, sicuramente vi aspettiamo tutti in località Perola per vedere il cross, perché è una cosa, come avete visto nelle immagini prima, molto bella, i ragazzini che corrono sui prati, al di là poi del livello di ogni ragazzino, però sono tutti molto felici e soddisfatti, diciamo, quando corrono queste gare. Sono poche, come dicevo, le possibilità di correre sui cross, quindi questo è veramente un bel cross che, come diceva Dante, si può vedere, si può vedere, diciamo, dalla partenza, si può vedere un po' tutto il percorso. Un po' tutto il percorso e qui il nostro Felix vi sta trasmettendo quella che è la rocandina. Io ringrazio davvero di essere stato qui con noi Simone Carrara, dell'Atletica Albino, Daniele Ravase, dalla Marinelli Comenduno, il nostro Dante a Cervis, assolutamente attenzione, grazie mille. Guardate qui, che bella, la maglietta della Bergamo Stars, grazie anche al presidente Dante a Cervis, questa la conservo nelle mie uscite, chiaramente, primaverili di corsa, perché io invece vado sulla pista ciclabile ad altri ritmi rispetto a quelli dei ragazzi, ma ci sono anch'io, pian pianino. Quindi grazie davvero, in bocca al lupo per il cross di Perola, invece voi rimanete con noi, perché adesso iniziamo davvero a parlare anche di neve, e ci trasformiamo in Val di Scalve. Eccoci di nuovo in onda con Antenna 2 Sport, abbiamo parlato di atletica, delle cross di Perola, come anticipato prima della pubblicità, è tempo di spostarci in Val di Scalve, è tempo di andare a Schilpario, perché ho qui l'ospite in studio con me, ci sono gli amici dello Sciclabe a Schilpario, buonasera e ben ritrovati. Buonasera. Buonasera. Qui a fianco a me c'è il maestro, pensate un po', Maurizio, poi ci racconterà qualcosa di lui, perché è il suo ruolo, non solo da speaker, ma anche da talismano, dello Sciclabe a Schilpario al centro, e invece abbiamo un olimpionico, ma anche allenatore, chiaramente di questo Sciclabe, lui che è nato e cresciuto lì, e poi ha portato la sua carriera da atleta nel mondo, sto parlando di Fabio Mai, buonasera Fabio. Buonasera. E poi, lo abbiamo lasciato per ultimo, ma lui a tutti gli effetti è il presidente di questo Sciclabe, Andrea Giudici, che insomma, parto proprio da te Andrea, Sciclabe Schilpario, storia, tradizione, il fondo per quanto riguarda la nostra Bergamasca e non solo. Sì, lo Sciclabe Schilpario ormai ha più di 70 anni che porta avanti questa disciplina, soprattutto nel fondo, anche nella discesa, e ha portato molti campioni, partendo già anche da Giulio Capitanio, dal Fabio, e da tutti gli altri che poi sono arrivati. Abbiamo sempre avuto un bel numero di ragazzi, anni indietro erano molti di più, adesso ci siamo un po' calati, però quest'anno, visto che stiamo riprendendo, abbiamo 34 ragazzi che praticano l'agonismo, e abbiamo 28-30 ragazzini che stanno facendo il corso di base, quindi direi ancora un bel numero, nonostante i periodi di magra degli atleti. Ebbè, insomma, sono numeri davvero importanti per quel che riguarda e per quel che corrisponde alla Val di Scalve. Voi che vi allenate in un centro di fondo davvero spettacolare, quello della pista degli abeti, che, pensate un po', ospiterà anche la Coppa Europa, e non solo, soprattutto nel prossimo anno, nel 25, ospiterà anche i mondiali junior proprio di questa disciplina. E di queste due competizioni così importanti, ma anche di altre competizioni, siete proprio voi, dello Sciclub Scilpario, Andrea, che vi fate carico di tutta quella che ho all'organizzazione, anche perché io sono stata fisicamente a trovarvi, e la cosa bella è che a Scilpario si nasce con gli sci ai piedi, ma questa è la verità. Sì, è vero, a Scilpario si nasce con gli sci ai piedi, anche se ultimamente stiamo un po' tribulando, perché come tutti sapete la neve in questi ultimi anni ci sta un po' facendo tribulare. Comunque, anche quest'anno che abbiamo la Coppa Europa, ci siamo presi in carico questa manifestazione che farà da apripista poi ai mondiali del 2025, siamo tutti indaffarati, siamo a un buon punto, come tutti sanno abbiamo già da Natale una pista aperta sull'innevamento da due chilometri e mezzo, non è che da oggi abbiamo aperto ancora un pezzo, quindi siamo arrivati a quasi quattro chilometri, e penso che per i primi giorni della settimana prossima riusciamo a completare tutto il giro proprio anche della Coppa Europa e quindi è una grossa soddisfazione. Non metto in dubbio che abbiamo dovuto lavorare molto e qui ringrazio proprio tanti volontari dello Ciclabe e anche del paese che ci hanno dato una mano, perché anche sparare la neve con certe condizioni che un giorno riesci, un giorno non riesci, quindi attacca, stacca, cioè bisogna essere proprio convinti di quello che si vuole andare a fare e questo grazie ai volontari lo stiamo riuscendo e sicuramente riusciremo a fare una manifestazione di Coppa Europa a grande livello come Schilpario ha sempre fatto in questi ultimi anni con altre manifestazioni. Esatto, sì, perché Coppa Europa, Coppa Italia, insomma organizzate davvero tante manifestazioni e la cosa bella è proprio la sinergia anche con il resto, il contorno del paese, di tutta la Val di Scalbe, perché in quei giorni chiaramente dà una mano nell'organizzare queste importanti gare dove nascono altrettanti grandi atleti e vado da Fabio Mai, che lui adesso è l'allenatore di questo Sciclabe Schilpario, ma lui insomma al collo ha due ori olimpici, due mondiali, ricordo bene? Due argenti olimpici. Due argenti olimpici. Beh, però insomma tanta roba. Sì, non mi posso lamentare della mia carriera per l'amore del cielo, spero con tutto il cuore che ci sia qualcun altro che segue le mie, orme, diciamo così, e quindi lo faccio con tutta la mia passione questo lavoro. Un lavoro che… Questo lavoro, tra virgolette, insomma di cercare di, più che altro, di infondere questa passione che io ho avuto e che ho tuttora per questo sport, anche se è un po' bistrattato in questi periodi qua, ma speriamo torni a essere lo sci di fondo che era ai miei tempi o che comunque ha avuto dei grossi risultati in passato e quindi, chi lo sa, magari nel prossimo futuro, già magari delle Olimpide 2026 potremo vedere degli atleti italiani sul podio. Eh sì, perché la cosa bella è che a Schilpario c'è un centro di fondo dove possono davvero nascere grandi atleti. C'è un anello importante, credo che completo sia intorno ai 10 chilometri, correggetemi se sbaglio, e lì poi da questo tipo di strutture, non dimentichiamoci l'apertura anche del Palazzetto del Ghiaccio che sta ospitando davvero tantissime persone, da questo tipo di strutture possono crescere davvero grandi atleti, anche con la fatica, perché i numeri che ci ha detto prima Andrea sono davvero importanti, anche nei regattini. Insomma, l'entusiasmo c'è, non manca, non manca mai in Val di Scalve. Sì, è vero, allora, per il nostro piccolo paesello, per la nostra Val di Scalve, che siamo 4 mila abitanti, i 30 o 33, come ha detto il Presidente, iscritti al nostro sci-club, sono un bel numero. Noi siamo più che soddisfatti di questa affluenza di ragazzini, certo, sono veramente tanti i piccolini nelle scuole elementari e da qui ad arrivare poi a essere qualcuno, a diventare dei campioni, insomma, ce n'è tanta di strada, però noi, io e gli altri allenatori, ci mettiamo tutta la nostra passione e speriamo che qualcuno di questi piccoli bambini possa arrivare a diventare veramente un professionista. In alto, diventare un professionista, anche se sono tanti i professionisti nello sci di fondo, soprattutto nella nostra Bergamasca, c'è un bel team? Ma la terra Bergamasca, alla fine, è sempre stata terra di fondisti, di sport, di fatica, già dal passato, quindi siamo sempre stati dei trascinatori per quanto riguarda appunto lo sci di fondo, poi certo, sono anche altri paesi che hanno poi magari avuto dei campioni più blasonati di noi, ma i numeri che ci sono stati nella Bergamasca, anche solo per tifo, per affluenza alle piste durante le gare, non lo so, adesso mi viene in mente la tappa di Clusone del 2000 o quando ci sono state le due tappe di Coppa del Mondo che siamo riusciti a portare qua in terra a Bergamasca, numeri di affluenza come spettatori a queste gare si è visti in ben pochissimi altri posti in Italia e comunque sia anche per dire Val d'Aosta o nel Trentino, erano comunque quasi tutti i bergamaschi che venivano a seguire queste gare. A seguire, questo era davvero significativo. E quindi qualcosa c'è che ci lega a questo sci di fondo. E quanto è importante organizzare due prove come la Coppa Europa quest'anno e i mondiali junior in quelle di Schilpario, proprio anche per continuare a creare entusiasmo dietro questo sport? Ma per noi è importante perché ci teniamo e siamo tutti appassionati a questo sport, quindi per noi è molto importante. Certo, un altro anno ci sarà la ciliegina sulla torta perché sicuramente è l'appuntamento più importante che organizzeremo fino a questo punto. Poi, chi lo sa, magari la Coppa del Mondo resta sempre il sogno, ma probabilmente adesso è una cosa quasi irraggiungibile perché dal punto di vista sia burocratico che logistico. E quindi quest'anno sarà un po' così, questa Coppa Europa ci sarà da riscaldamento, ma Coppa Europa o campionato mondiali junior non c'è proprio questa gran differenza. Con l'affluenza ci sono circa 400 atleti e più. Già quest'anno nella Coppa Europa di conseguenza i campionati del mondo i numeri saranno ancora quelli più o meno. E quindi sicuramente però potranno avvicinare tanti giovani sciatori in questa disciplina, in questo sport e soprattutto nello Schilpario che ha sfornato tanti campioni. Sì, però è vero, tantissimi magari no, però comunque al di là di me ci sono stati anche in passato i miei predecessori, dal Giulio Capitanio all'Antonio Clementi, lo stesso Toni Morandi che comunque va bene ha fatto sci alpino, ma era comunque un fondista adattato o prestato allo sci alpino. E poi ci sono stati anche tantissimi altri ragazzi che sono arrivati alle squadre giovanili, ai corpi militari. E ripeto, per il nostro piccolo, per Val di Scalve, per i nostri pochi abitanti, sono sicuramente tanti la percentuale dei ragazzi che siamo riusciti a portare a un certo livello. Un'ultima domanda e poi parliamo di entusiasmo e di tifo con il nostro maestro. Quanti allenamenti si fanno a settimana in questo sport, nell'agonismo, in questi ragazzi, nella fascia di età, insomma, magari tra terza, quarta elementare fino alle medie, insomma, quanto ci si allena? Perché spesso anche questo è importante, è uno sport di sacrificio, quindi immagino che vada davvero allenato parecchio. Sì, purtroppo sì, va bene, noi poi siamo uno sciclava abbastanza moderato in queste cose, siamo appunto in tre, quattro allenatori, abbiamo diviso il nostro gruppetto in tre gruppi, quindi naturalmente i piccolini durante l'estate li lasciamo stare, giocano e cominciamo un po' durante l'autunno a coinvolgerli in alcune uscite all'aria aperta. e man mano che diventano grandi allora li coinvolgiamo un po' più spesso, un paio, due, tre volte alla settimana durante l'estate per finire durante l'inverno con la neve, anche perché è un po' più divertente la cosa e allora si fanno anche quattro allenamenti più un giorno di gara o cinque allenamenti più un giorno di gara, dipende un po' anche dai loro impegni naturalmente perché la prima cosa è la scuola e la seconda è lo sport, anche se magari il maestro non è proprio tutto d'accordo, ma comunque dovrebbe essere... Lo sta dicendo contro la sua volontà. Dovrebbe essere questa la classifica, ma vabbè... Vabbè, ogni tanto ci sta che si possa sacrificare un pochino, pochino, pochino di scuola proprio per fare bene. Tanto entusiasmo e so che il nostro maestro è già pronto, Maurizio, raccontaci un po' del tuo ruolo all'interno dello Sciclub Schilpario, ma soprattutto, insomma, tu sei lo speaker, ma posso aggiungere anche un tifoso storico di tutti questi grandi campioni che lo Sciclub Schilpario ha sfornato in questi anni. Certamente, certamente a partire fin già da Giulio Capitanio, appunto, che è stato il primo... Tra l'altro, ecco, bisogna sottolineare anche questo. Lo Sciclub Schilpario ha dei primati assoluti in Italia. Giulio Capitanio è stato il primo atleta italiano a vincere una gara di Coppa del Mondo, intanto, nello Cidifondo. Fabio Mai è l'unico italiano per il momento ad aver vinto in tutte le specialità, nella sprint, nella sprint a coppie, nella staffetta, nella staffetta corta e anche almeno una specialità delle lunghe distanze, delle distanze classiche, insomma, ecco. È l'unico in assoluto, oltre a essere stato il primo italiano ad aver vinto una gara sprint. Engelberg, bisogna ricordarlo questo qua. Ecco, proprio da lui, diciamo così, l'entusiasmo che ha portato lui, poi è stato eccezionale, lo seguivano tutti, ecco. Infatti, io ero andato anche a seguirlo a Lillehammer. Comunque, in quell'occasione lì, avevamo avuto appunto, avevo avuto appunto questa soddisfazione di avere, sì, di vedere la medaglia d'oro, che poi ho scoperto che era sporca, però avevamo vinto e la sportività del pubblico norvegese è stata eccezionale perché nonostante avessero perso, una cosa incredibile per loro perdere in casa, poi nello sci di fondo, poi, ecco. Questo tifoso mi ha regalato il cappello, ma proprio spontaneamente, senza neanche, perché io glielo avevo chiesto, lui non aveva mai dato, non c'erano questi cappelli, loro ce ne erano veramente pochi. Allora ci tenevo a portarlo a casa, lui spontaneamente al termine, nonostante avessero preso una legnata pazzesca, questo me l'ha regalato e questo naturalmente è diventato anche il simbolo del Fabio Mai Fans Club. Ecco, sponsorizzato, scami ai tempi e comunque questo, ecco, che in pratica si porta così, come un vichingo. Come un vichingo, come un vichingo, con le corna, con scritto Val di Scalve, che è veramente spettacolare. Beh, chiaramente, Val di Scalve con le bandierine che naturalmente anche queste hanno il loro tempo, perché in pratica ci sono le firme di tutti i campioni, ma anche quelli esteri, perché nello sport dello sci di fondo il bello è questo, che noi si tifa tutti quanti, non solo i nostri, perché lo sci di fondo è ancora lo sport che è, oltre a essere davvero faticoso, eccetera, eccetera, però dà quella soddisfazione di vedersi tutti quanti amici e tutti quanti che ci si trova alla fine della gara, indipendentemente da come poi è andata a finire. E quindi, però lei è lo speaker ufficiale, quindi immagino che tutte le gare abbiano la sua voce. Cioè, com'è commentare questi atleti di casa, che spesso vincono, eh? Beh, innanzitutto la mia più grande soddisfazione è di commentare ai bambini, invece, perché loro ti danno tanto di quell'entusiasmo e tanto di quell'entusiasmo, io faccio lo speaker anche un po' per le altre società, e sono contento che mi chiamino, perché i bambini, quando arrivano, voi li vedete, hanno tutti il sorriso sulle labbra, indipendentemente dalla posizione che sono arrivati. E' lì lo sport, è lì la soddisfazione di vedere questi ragazzi davvero che lo fanno davvero con passione e anche con entusiasmo, ecco, è questo lo sport. E invece di farlo raccontare a Fabio, lo faccio raccontare a lei, il miglior successo di Fabio che al quale ha assistito, una gara, un ricordo che vuole condividere con tutti noi e con tutti i nostri telespettatori. Ma le vittorie purtroppo le ha fatte tutte all'estero, vabbè, però... Uno a una su tutte, magari anche non così clamorosa, ma insomma che ha lasciato il segno. Vabbè, di Fabio tutto, però quello che ho potuto assistere proprio direttamente a una gara di Coppa del Mondo, qui a Crusone, però una in particolare che non è che mi abbia dato grandi soddisfazioni, però eravamo su Acquopio, in Finlandia, su Inalto, e lui è sempre stato più o meno in testa alla gara, poi si è ritirato. Però ho avuto la soddisfazione comunque poi che è stato premiato perché è stato il miglior italiano in quel periodo. In quel periodo lì, vabbè, abbiamo raccontato anche questi aneddoti e queste curiosità, quindi se andrete a vedere anche la Coppa Europa in quel di Schilpario sicuramente incontrerete anche il maestro. Io torno velocemente da Andrea Giudice, anche perché il tempo stringe, Sciclè e Schilpario l'abbiamo presentato, abbiamo fatto i numeri, ma adesso dobbiamo fare un invito a venire davvero, a vedere questa Europa che si svolgerà a febbraio in quella della pista degli Aveti, nel centro di fondo di Schilpario, ricordiamo le date, quando si potranno vedere le gare, insomma, e magari qualche ragazzo se si vuole unire al vostro Sciclè, come fare, come fare a avere Fabio come allenatore per provare anche l'emozione dello Sciclè di fondo? Ah niente, il nostro Sciclè è alla porta aperte a tutti, qualsiasi che vuole tesserarsi con noi può venire, noi li prendiamo tutti da quelli bravi anche a quelli non bravi. Per quanto riguarda la Coppa Europa, la Coppa Europa inizia il venerdì 23 con l'allenamento ufficiale, al pomeriggio la sfilata, il 24 ci saranno le gare individuali, il 25 la domenica c'è l'inseguimento e in più le staffette per gli under 16 e gli under 18. Siete tutti invitati sulla nostra pista che sarà sicuramente preparata al top dai nostri volontari e da tutti gli Sciclè, anche di Bergamo, che ci danno una mano. Quindi dal 23 al 25 febbraio 2024 per assistere alla Coppa Europa, i migliori talenti europei si ritroveranno in Val di Scalve per sfidarsi, come detto, in tutte queste discipline, non mancherà sicuramente Fabio Mai. Volevo dire, visto che io vengo anche dal mondo della scuola, anzi ho passato la vita nella scuola, volevo dare un consiglio sia alle insegnanti sia ai genitori, perché dovrebbe essere questo il senso poi di dare la possibilità a questi ragazzi di stare davvero all'aria e tutto il resto. Il detto era quello, meno studio e più sport. Questo che serve. È un concetto che noi cerchiamo di rendere più equilibrato possibile, insomma c'è la scuola, c'è lo sport, cerchiamo di mettere insieme tutto, anche solo per i bambini che ci stanno ascoltando. Ribadisco, meno studio e più sport. Ascoltiamo, nel caso andiamo tutti a Schilpario a sciare, sicuramente in mezzo a Natura si sta davvero bene. Io davvero devo ringraziare il nostro maestro Maurizio, grazie davvero, grazie per averci portato anche questo bellissimo cappello che rappresenta un po' anche la storia dello sci e della Val di Scalve. Grazie a Fabio Mai, in bocca al lupo, anche a tutti i tuoi ragazzi. Grazie davvero Andrea Giudice, il presidente di questo Sciclub, in bocca al lupo, 23, 24 e 25 febbraio per la Coppa Europa, andate a trovarmi. Voi rimanete con noi perché c'è il momento da pubblicità, ma poi rimaniamo in Val di Scalve, ci spostiamo a Colere, cambiamo disciplina, questa volta andiamo in snowboard. Terza ed ultima parte di Antenna 2 Sport, abbiamo iniziato partendo dall'atletica, siamo finiti nello sci di fondo e adesso è il momento di parlare di snowboard. Eh sì, rimaniamo in Val di Scalve, andiamo in quelle di Colere, lì dove in questa stagione sono stati inaugurati anche i nuovi impianti e quindi questo nuovo comprensorio pronto ad ospitare tanti tantissimi atleti e lì a sede proprio lo Scalve Border Team, che ho il piacere di avere qui ospiti con me in studio. Buonasera e ben ritrovati all'allenatore Stefano Bendotti. Buonasera Stefano e soprattutto anche il rappresentante degli atleti, a Camilla Malusà, che poi ci racconterà anche di quella che è la sua esperienza qui, perché lei non è proprio bergamasca, lei arriva dalla provincia di Torino e quindi insomma ci racconterà come sono gli allenamenti e perché fa parte di questo gruppo speciale. Ma facciamo un passo indietro, raccontiamo dello Scalve Border Team perché è una squadra agonistica che fa snowboard cross e insomma raduna davvero tanti tantissimi atleti partendo dai più piccoli. Io sono stata a Colere e ho visto davvero bambini piccolissimi, 4-5 anni già sulla tavola, già sullo snowboard. Dico bene Stefano. Esatto, noi a Natale, sotto periodo di Natale, ormai è da tre anni che facciamo un piccolo corso di una settimana per i più piccoli, abbiamo una bambina quest'anno di tre anni. Cassio, è piccolissimo. Poi da lì dopo la settimana decidono con i genitori se vogliono continuare tutta la stagione oppure gli basta così. Anche perché lo snowboard è sempre questo attrezzo sempre più richiesto, forse è anche un po' più modaiolo, possiamo dire così? Ma diciamo che è cambiato tanto. Prima andava di moda, poi ha avuto un attimo di crisi, adesso diciamo che si è un po' ripulito l'immagine, siamo riusciti a avvicinare anche famiglie, le più piccoli. È bello, comunque quest'anno siamo in tanti, siamo in una cinquantina, i ragazzi sono in una cinquantina e di tutta l'età alla fine. E questo è davvero molto importante, dai più piccoli fino ai più grandi, anche perché il DNA di questa società è proprio preparare alla nazionale, preparare alle grandi competizioni, gli snowboarder a tutti gli effetti. Qui vediamo alcuni dei vostri video, insomma, sì imparare, sì crescere, ma poi prepararli davvero alle gare agonistiche che contano, Stefano. Esatto, noi allora diciamo che seguiamo una mentalità che prima dei 14-15 anni ci piace far capire ai bambini e ai ragazzi che innanzitutto è uno sport dove ci si diverte, poi dai 15 anni quando uno poi deve decidere un po' che via prendere, lì si può, comunque noi facciamo gare in tutta Europa e diamo anche questa possibilità, però da un'età più avanzata, insomma uno quando è in grado di capire lo faccio, lo faccio bene o non lo faccio. Se lo faccio, lo faccio con la testa, con coscienza, preparando quelle che sono le gare importanti, come ha detto Stefano, persino in Europa. Nel frattempo, grazie al nostro Felix, stiamo vedendo le carrellate delle foto di gruppo, magari anche divisi per età, proprio dei ragazzi che fanno parte di questo team, team che si allena in quelle di Coler, Coler che di per sé è insomma un comprensorio adatto a quella che è la vostra disciplina, proprio per la presenza di neve, ma di piste dedicate, di questi sali e scendi, di questi dossi naturali che vi consentono di allenarvi per le migliori competizioni. Sì esatto, poi diciamo che noi siamo affezionati perché tutti gli allenatori praticamente siamo nati lì e ci è dispiaciuto un anno cui abbiamo dovuto saltare, ci siamo dovuti spostare, però da quest'anno con gli impianti nuovi e la gestione nuova ci seguono molto, tra l'altro quest'anno abbiamo la possibilità di avere una pista Snowboard Cross fissa per allenarci e per fare competizioni tutta stagione. Voi so che organizzate anche diverse competizioni, avete già in programma qualcosa per questo 2024? Sì, questa settimana, da venerdì, tra l'altro cominciano i campionati regionali di Slalom e di Snowboard Cross, poi continueremo tutta la stagione praticamente quasi una settimana, sì, una settimana, no, passiamo dalle FIS, quindi gare internazionali, ad esempio avremo la Coppa del Mondo Paralimpica, sempre di Snowboard Cross, facciamo qualcosa anche di Ski Cross e comunque, sì, insomma, grazie. Siete impegnati anche da questo punto di vista, immagino che, insomma, il gruppo deve essere bello importante e numeroso proprio per cercare anche di organizzare tutte queste gare sul territorio che portano sicuramente turisti, gente, a scoprire anche le bellezze di tutta quella che è la Valle di Scalbio. Ma raccontaci un po' di te, Stefano, sei di colere e a tutti gli effetti immagino che tu sia partito da atleta all'interno dello Scalbio Border Team e adesso ti vediamo con la divisa da maestro ufficiale riconosciuto, a tutti gli effetti sei l'allenatore e porti avanti quelli che sono questi piccoli campioni e non solo. Sì, io ho cominciato da piccolo, 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 avevo sei anni, subito con lo Scalbio e mi sono innamorato dello sport, ho fatto, è da una vita che faccio questo, sono stato in nazionale e poi quando purtroppo ho dovuto smettere, mi sono, ho fatto il corso maestri, il corso allenatori e adesso alleno la squadra agonistica, la sezione agonistica di Scalbio Border Team e il comitato regionale. C'è qualche punta di diamante qualcuno che, insomma, fra poco ha come obiettivo la nazionale? Ci siamo quasi, insomma, siamo in dirittura d'arrivo. A me piace non parlare prima del tempo perché comunque già arrivare lì e provare a entrare in nazionale vuol dire che sei già forte, la competizione è tanta, però sì, qualcuno abbiamo. Qualcuno abbiamo e come ogni anno, insomma, siete davvero, forse, la squadra che porta più atleti in nazionale a livello italiano? In assoluto, sì. Abbiamo avuto parecchi atleti, tra cui Michela Moioli, io, Cristian Beringheri, Sofia Beringheri, Thomas Beringheri e, insomma, Mari Cassavoldelli è passata per voi. Mari Cassavoldelli, esatto, che tra l'altro è sua compagna di corso, si allena insieme a lei, già da due anni, e, beh, sì, comunque ne abbiamo portati parecchi. Ce ne sono parecchi. Andiamo adesso davvero a conoscere anche Camilla, che è Camilla Malusassi, ho pronunciato correttamente. Perfetto, perfetto. Mi svelava nel Forionda che lei è nativa di Ivrea, in provincia di Torino, e in questo momento condivide la casa, l'appartamento, insieme a Marika Savoldelli, che insieme a lei condivide anche questa passione importante, e soprattutto questo sport è importante, quello dello snowboard coros. Ma raccontaci un po' quanti anni hai e soprattutto come sei arrivata a Bergamo, come sei arrivata allo Scalve Border Team. Allora, ho vent'anni e ho sempre sentito parlare bene di questa squadra, e conoscendo anche Michela, essendo lei una mia amica, hanno sempre sentito parlare bene, e quindi ho colto l'occasione, mi sono trasferita qua a Clusone per poter stare con lo Scalve, allenarmi con loro, e stare a Collere. È la prima stagione vera e propria che fai in terra Bergamasca? No, è la seconda, è la seconda, però è la prima che faccio a Collere, non c'ero mai stata. L'anno scorso, col fatto del cambiamento degli impianti, non abbiamo potuto sfruttare Collere, quindi ci allenavamo in altri posti, ma quest'anno ho già fatto un bel po' di giornate a Collere. Da dove è nata la passione per lo snowboard e questo sport? Eh, questo sport, la passione per questo sport nasce da mio papà, che oggi è un allenatore, prima era un atleta della Nazionale Italiana, ha fatto un po' di Olimpiadi, un po' di Coppe del Mondo, e lui mi ha trasmesso l'amore per la neve, per lo sci, per lo snowboard, per lo sport in generale, in realtà. E adesso forse il sogno è arrivare proprio come papà? Non saprei, lui è arrivato molto in alto, non pretendo troppo, voglio solamente vivermi serena la stagione e far snowboard, divertirmi, e poi quello che arriverà, arriverà, prenderò quello che arriva. Adesso tu a tutti gli effetti fai parte del Comitato Alpi Centrali, queste sono le tue gare, come Comitato puoi andare anche nel mondo proprio a difendere i colori del Comitato. C'è una gara che vuoi condividere con noi, magari un ricordo, un successo, piuttosto che una gara importante che ha lasciato il segno nella tua carriera? Ma sicuramente delle gare trascorse ho imparato tantissime cose e la più importante l'ho capita dalle gare andate male. Quelle lì, secondo me, sono quelle in cui si capisce di più. e ho imparato che bisogna viversela nel modo più sereno possibile e fare le cose perché ci piacciono e perché ci fanno divertire. Nel momento in cui ci mettiamo addosso pressioni, non funzioniamo. e quindi dalle gare dell'anno scorso ho imparato soprattutto ad avere un po' più di fiducia in me stessa e a vivermi le cose bene perché faccio snowboard nella vita ed è la cosa più bella che potrei fare quindi non ho niente di cui essere triste o lamentarmi. Vabbè, con gli allenamenti come ci organizziamo la giornata? Perché immagino che sia davvero tosto. Forse questo è anche il periodo più tosto per voi. Quello della preparazione è dove vivete a tutti gli effetti gare e allenamenti? Una giornata tipo inizia abbastanza presto. Ci si allena per quattro ore circa. Si fa un po' di magari tecnica in campo libero piuttosto che adesso abbiamo la fortuna di avere la pista da snowboard cross quindi possiamo allenarci direttamente sulla pista il che è veramente ottimo. e dopo allenamento di solito c'è la parte atletica quindi la parte di palestra e preparazione atletica e poi si ricomincia. E poi chiaramente si ricomincia. I prossimi impegni importanti che ti vedranno protagonista quali sono? Ma abbiamo questo weekend appunto i regionali e sono comunque delle gare a cui tengo voglio comunque farle bene e dopo di che avremo un po' di FIS in giro tra Svizzera e alcuni in Italia e poi ci sarà una Coppa Europa proprio qua a colere. A colere. Quindi insomma subito anche in Coppa Europa ti vedremo protagonista che insomma vedrà protagonisti anche tutti gli altri atleti dello Scalve Bortem Team. Come va con il team? Sono tanti giovani. Io vi ho visto allenarvi. È anche bello condividere con tanti altri ragazzi della tua età. Sì, sì, è proprio un gruppo grandissimo e ci sono veramente bambini dai più piccoli a chi è alle medie, gente che è al liceo quindi è proprio bello girare tutti insieme perché si è creata una grande famiglia siamo su a colere siamo tutti quanti insieme non siamo divisi sempre di età a volte ci piace anche farci la sciata insieme ai più piccoli ed è sempre bello. Che spesso soprattutto in questo sport dove non bisogna avere paura ma soprattutto non bisogna vedere nemmeno il pericolo ogni tanto loro sono spregiudicati. Sì, sì, molto più di noi molto più di noi Sì, sono molto bravi sono sempre allegri quindi anche noi più grandi magari quando abbiamo le giornate no abbiamo sempre un bel gruppetto di ragazzini e di bimbi che ci rallegrano. Stefano sono tutti bravi? Tutti promossi? Sì. Tutti promossi. Stefano lascio dire a te per i nostri telespettatori magari qualcuno si vorrà unire al vostro gruppo allo Scalve Border Team anche solo per fare una prova per imparare per mettere la tavola ai piedi cosa deve fare? Ma allora noi abbiamo un sito che funziona molto bene scalveborderteam.it e insomma ci trovate un po' di tutto trovate i nostri contatti niente provate a scriverci a contattarci vedrete che riceverete subito risposta se magari siete alle prime armi o il bambino nelle prime armi si fa qualche lezione di insomma di metterci un po' di pratica poi c'è veramente un gruppo per ogni livello quindi non è un problema non è un problema qualsiasi sia il livello non abbiate paura grazie davvero a Camilla Malusaca al quale faccio davvero un grosso in bocca al lupo per questa stagione per tutti gli obiettivi futuri complimenti grazie di essere arrivata anche in terra bergamasca grazie e grazie davvero anche a Stefano Bendotti allenatore dello Scalve Bordentini in bocca al lupo anche a te ma chiaramente anche a tutta la squadra tutta la squadra del settore agonistico questo era Antenna 2 Sport e come ogni martesì sera abbiamo raccontato lo sport nelle nostre valli che ha fatto di campioni e di grandi appuntamenti io vi ricordo che potete rivedere questa intervista e tutta questa trasmissione sul nostro canale YouTube proprio dedicato ad Antenna 2 Sport io ringrazio anche il nostro Felix in regia e come sempre vi auguro una buona serata ma vi ricordo torniamo sempre martedì puntuali alle 21.30 buonanotte a tutti a tutti